ma buonasera probabilmente vi starete chiedendo perché indosso un paio di occhiali in una video recensione la risposta è semplicissima volevo fare no scherzo questi sono i nuovi huawei gentle monster eyewear 2 il secondo modello degli occhiali smart di huawei realizzati in collaborazione con il brand sudcoreano gentle monster sono degli occhiali che ci consentono di effettuare delle chiamate ascoltare della musica ma allo stesso tempo comunque sono un prodotto veramente trendy e con delle ottimi lenti insomma non voglio spoiler arvi nulla in questa video recensione andremo a rispondere ad alcune domande sono veramente meglio rispetto alla generazione passata cosa cambia rispetto al modello precedente insomma non ci resta che scoprirlo dopo la nostra sigla come in ogni recensione tuttavia vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il link ai nostri canali telegram digits deals dove condividiamo giornalmente coupon flash sale codici sconto offerte esclusive e tanto altro ancora inerente al mondo tech ma non solo tra l'altro questi occhiali sono disponibili con coupon proprio grazie ad un coupon che solitamente condividiamo sui nostri canali e adesso via sul fronte del design dobbiamo fare alcune distinzioni perché il modello in nostro possesso è un mai ma 01 è il nome in codice ed è molto simile a quello dello scorso anno è unisex ma essendo comunque un occhiale molto grande sarà più adatto su volti che non sono particolarmente piccoli e allo stesso tempo hanno diciamo delle linee un po più femminili anche se comunque possono adattarsi su un volto maschile tuttavia c'è anche il modello lang 01 che ha delle dimensioni più contenute un design simile ai rayban i waifera questa la pronuncia adatta e quella è un altro paio di maniche e magari è più vicina a un'utenza maschile partendo dall'astuccio troviamo già una novità in quanto questa volta ha una forma squadrata e personalmente l'ho apprezzata di più in quanto è meno ingombrante e più discreta troviamo sempre un metodo di ricarica wireless e posteriormente è presente l'ingresso usb type c per la ricarica oltre che due led di stato internamente ed esternamente passando agli occhiali dal punto di vista estetico questo secondo modello non differisce particolarmente dal precedente il loro peso è di circa 48,1 grammi e sono resistenti a spruzzi di acqua e polvere grazie alla certificazione ip54 in qualsiasi caso non è consigliabile immergerli in acqua o lavarli nel lavandino perché potrebbero rovinarsi tuttavia faccio presente anche che il modello precedente era certificato ip67 anche se vale lo stesso discorso fatto per questo quindi probabilmente insomma siamo lì le asticelle sono spesse al loro interno integrano gli altoparlanti i microfoni e delle sezioni sensibili ai comandi touch che rendono questi occhiali un prodotto smart per quanto riguarda le lenti invece queste sono di altissima qualità mi ricordo che con il primo modello ero rimasto piacevolmente sorpreso dalla visibilità e con questi mi sembra ancor meglio è veramente ottima riesce a filtrare benissimo la luce e mi sono trovato veramente molto bene i gentle monster 2 sono dotati di bluetooth 5.2 possono interfacciarsi allo smartphone attraverso l'applicazione ai life di huawei una volta effettuato il primo accoppiamento gli occhiali si metteranno molto velocemente al nostro dispositivo basterà infatti indossarli e il gioco sarà fatto il software di huawei è molto semplice da utilizzare e ci guiderà passo passo nell'accoppiamento iniziale comunque una volta dentro potrete monitorare lo stato di carica degli occhiali impostare la riproduzione di saluti quando indossiamo il prodotto gestire alcune informazioni audio e modificare le gesture infatti la superficie touch sulle asticelle ci consentirà di effettuare diverse operazioni abbiamo per esempio il play pausa con un doppio tocco sulla destra l'assistente vocale con doppio tocco sulla sinistra il volume con scorrimento del dito sull'asticella sinistra e la scelta dei brani sempre con uno scorrimento ma questa volta sulla destra quindi basterà fare avanti indietro mentre dando un pizzico sull'asta sinistra andiamo ad attivare la modalità pairing i tocchi comunque vengono recepiti veramente molto bene anzi devo dire che rispetto alla generazione passata sono rimasto maggiormente soddisfatto sia perché mi sembra che siano più precisi ma anche per il fatto che sono aumentate le operazioni che possiamo svolgere quindi abbiamo anche lo swipe oltre che al doppio tap e la pizzicata abbiamo anche i sensori di prossimità quindi andandoli ad indossare questi si connetteranno automaticamente allo smartphone e se stavamo ascoltando musica quando li toglieremo questa si interromperà e riprenderà quando li riindosseremo a patto che lo facciate entro tre minuti dall'ultima volta che li avete tolti in quel caso dovranno riconnettersi ma vi ripeto il la connessione è molto veloce tra smartphone e occhiale inoltre per chi possiede alcuni smartphone huawei specifici e vi lascio magari qui sotto il link in descrizione alla recensione testuale dove ne faccio menzione con emotion ui da 11 a superiore può svolgere delle funzioni aggiuntive per esempio abbiamo la funzione trova i miei occhiali quindi nel momento in cui li accoppiamo con geolocalizzazione attiva questi verranno rintracciati qualora li perdiate oppure li dimentichiate da qualche parte l'altra funzione è la registrazione audio wireless ad alta qualità e questo può tornare utile magari in diverse situazioni perché abbiamo comunque dei microfoni su ogni asticella passando invece all'audio prima partirei con l'analizzare la potenza perché devo dire che il volume elevato è abbastanza forte da diciamo ascoltare la musica indisturbati ma allo stesso tempo ci fornisce una consapevolezza dell'ambiente circostante quindi anche aumentando al massimo il volume sentiremo magari il sottofondo dei chiacchierici dei nostri vicini vicini nel senso vicini magari di posto se sia sulla metro sull'autobus eccetera eccetera però non si rimarrà completamente isolati quindi magari se state in macchina e state non so facendo una chiamata potete comunque sentire l'ambulanza che arriva insomma si è vigili e consapevoli di quello che ci sta accadendo intorno passando invece all'audio devo dire che con frequenze alte e medie si comporta abbastanza bene queste vengono riprodotte abbastanza fedelmente le basse invece sono poco accentuate ma ricordiamo che questo prodotto non va a sostituire delle cuffie ma va visto più come un occhiale che può espandere alcune possibilità e capacità diciamo come un'estensione anche della produttività perché magari si vogliono intrattenere delle chiamate senza avere cuffie nell'orecchio e quindi si ha l'occhiale che svolge la doppia funzione e quindi tanto di guadagnato prima di arrivare però alle chiamate volevo parlare un attimo della latenza audio perché quando si guardano film o video su youtube non riscontriamo alcuna latenza tra suono e immagine mentre quando giochiamo c'è quel minimo di latenza che ormai troviamo praticamente su tutti i dispositivi audio come per esempio varie cuffie bluetooth infatti non sarà così distante da non consentirci di giocare ma è presente sempre quella micro frazione che adesso vi faccio sentire i tech dei pokemon presenti su aliexpress ma non parliamo di pokemon in generale perché la maggior parte di essi sono a tema pikachu quindi quale altro colore se non il giallo per rappresentare il nostro fedelissimo pikachu il giallo passiamo invece adesso alle chiamate e l'audio che state sentendo in questo momento è catturato proprio da loro dagli huawei gentle monster i wear 2 un nome più lungo certo potremmo inventarlo comunque a parte questo devo dire che la qualità è media nel senso noi riusciamo a sentire molto bene il nostro interlocutore quindi audio cristallino mentre l'audio catturato dai microfoni è leggermente ovattato ovviamente riusciamo a intrattenere senza problemi la chiamata però insomma va fatto presente che non è crystal clear come direbbero i nostri amici british un'altra buona notizia rispetto al modello precedente però è che il volume massimo in chiamata questa volta è stato abbassato per garantire una privacy maggiore quindi a meno che non stiamo in una stanza con veramente pochissimo rumore diciamo che in altri contesti sarà un pochino più difficile che le persone a fianco a noi possano sentire quello di cui stiamo parlando ovviamente si sente un minimo la voce nel senso si sente che qualcuno sta parlando con gli occhiali e questo magari farà sicuramente strano però non si riuscirà a capire benissimo quello che si sta dicendo quindi è un ottimo passo avanti all'interno di questi gentle monster eyewear 2 troviamo una batteria da 85 mAh che ci consente di avere un'autonomia di circa 5 ore in riproduzione musicale e chiamate con volume al 60% che diventano 4 ore con volume al 100% in linea generale dunque si comportano abbastanza bene e non avremo l'esigenza di ricaricarli a fine serata con un utilizzo medio quindi se la mattina si esce si va al lavoro magari si fa qualche chiamata un pochino di musica senza alcun tipo di problema la ricarica comunque avverrà attraverso il case perché è la ricarica wireless dovremo inserire dentro gli occhiali e poi attaccare il case con l'alimentatore perché non si ricaricano come per esempio le cuffie che inseriamo le cuffie nel case e queste si ricaricano bene gente la conclusione la voglio fare con gli occhiali indosso se non vi dispiace perché questi occhiali effettivamente portano diverse migliorie rispetto al modello precedente innanzitutto il prezzo di lancio è più basso infatti parliamo di 299 euro che con il coupon che vi lascio qui sotto in descrizione arrivano a 275 euro contro i 399 euro del prezzo di lancio del primo modello hanno poi delle gesture che sono state ampliate e migliorate ci garantiscono una privacy maggiore perché come abbiamo detto in precedenza il volume nelle chiamate è più basso e tutto sommato insomma nonostante il prezzo possa sembrarvi comunque alto parliamo sempre di una collaborazione con un brand di moda gentle monster quindi se andiamo a vedere i 299 euro alla fine sono in linea con altri occhiali normalissimi classici di marca e quindi insomma siamo lì ovviamente non è un prodotto per tutti e questo è chiaro a chi mi sento di consigliarlo a chi vuole sperimentare qualcosa di nuovo a chi ha del budget a disposizione chi non ha paura dell'innovazione vuole magari appunto come ho già detto qualcosa di diverso qualcosa che possa ampliare tra virgolette la produttività perché abbiamo un occhiale che fa anche qualcos'altro se è una bella giornata diciamo difficilmente non indossiamo un occhiale quindi perché a quel punto non inserire alcune feature molto particolari come per esempio la musica le chiamate eccetera eccetera secondo me è un prodotto interessante ma ricordo non è per tutti comunque io sono curioso di sapere la vostra di opinione vi aspetto qui sotto nei commenti mi raccomando lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e vi lascio sempre qui sotto nelle descrizioni il link per la recensione testuale che è molto più completa rispetto a quella video adesso vi saluto ciao a tutti da Leonardo per GizChina.it iscriviti al canale iscriviti al canale